La Riforma Protestante Come sempre preparo PowerPoint e cominciamo con la lezione. Per fare ciò andremo a vedere il caso di un frate che seguì, sotto certe fonti di vista, le orme di Martin Lutero, cioè Thomas Munzer, poi di un intellettuale come Giovanni Calvino e il calvinismo che si sviluppò in particolare nella città svizzera di Ginevra, e poi vedremo il caso un po' diverso, diciamo, di Enrico VIII e della fondazione della chiesa anglicana. Ma cominciamo appunto da Thomas Munzer. Quando parliamo di Thomas Munzer lo colleghiamo alla guerra dei contadini, anche di questo vi avevo accennato un po' nel video precedente. Innanzitutto, Thomas, incoraggiato, come vi ho detto dall'esempio di Martin Lutero, anche lui dette una propria interpretazione della Bibbia, che rispetto all'interpretazione che dava Lutero era ancora più estrema sotto certe fonti di vista. Perché? Lui si domanda una cosa e si chiede, se gli uomini sono fatti tutti uguali davanti a Dio, e questo era un dato di fatto per la religione cattolia, perché dovrebbero essere diversi sulla terra? Cioè, perché c'è la ricchezza e la povertà? Secondo lui, la missione dell'uomo era quella di rendere la terra una sorta di paradiso. E se in paradiso siamo tutti uguali, dovremmo essere tutti uguali anche sulla terra. Questo è il dovere di ogni buon cristiano. Questo ovviamente era ciò che pensava Thomas Muenzer. A questo punto era necessario quindi combattere contro i più ricchi e i più potenti. E ovviamente i contadini erano molto attratti da quest'idea che aveva portato avanti Thomas Muenzer. In pratica lui voleva porre fine alle disuguaglianze, proprio perché diceva che Dio ci ha fatto uguali, e in particolare, secondo Muenzer, il problema principale era la proprietà privata, cioè il fatto che le persone possedessero cose. Se nessuno possedesse niente, non ci sarebbero problemi. Questa poi è un'idea che ha avuto moltissima fortuna, esisteva già prima, ed è stata ripresa poi, e la più famosa poi si lega all'idea comunista. Che cosa succede? Muenzer predica questa sua idea in Germania, Lutero lo condanna perché Lutero non era assolutamente d'accordo con le parole di Muenzer, ma moltissimi contadini di alcuni paesi della Germania sono d'accordo con lui, in particolare quelli del piccolo borgo di Frankenhausen. E i contadini di questo borgo e di altri paesi vicini si ribellano ai potenti dei propri paesi, li cacciano e cercano di costruire questa specie di paradiso in terra. I nobili, ovviamente, tedeschi, si alleano contro questa minaccia, che vedono come una minaccia veramente importante, e portano avanti un esercito che nel 1525 distrugge nella battaglia di Frankenhausen questa rivolta contadina. Lo stesso Thomas Muenzer verrà catturato e poi decapitato, proprio perché si voleva che fosse un esempio per tutti coloro che pensavano che lui potesse avere in qualche modo ragione. Andiamo a vedere adesso quello che succede a Ginevra, invece, con il calvinismo. Il calvinismo, diciamo, che è una variante del protestantesimo, e iniziò a teorizzarla Giovanni Calvino, che era un francese, e verso il 1536, diciamo, cominciò a predicare questa nuova religione, molto collegata, diciamo, di base, assomiglia molto al protestantesimo, ma ancora più estrema. Infatti, rispetto all'idea di Martin Lutero, nel calvinismo abbiamo la dottrina della predestinazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio sa già tutto. Quindi Dio sa già anche chi si salverà degli uomini e chi, invece, sarà costretto alla dannazione eterna e a finire all'inferno. Quindi Dio ha già deciso coloro che saranno salvati e coloro che no. L'uomo, quindi, non può fare altro che credere. L'unica cosa è la fede. Questo era una somiglianza, diciamo, con il luteranesimo, cioè non ci si salvava per le opere, ma per la fede. Però, diciamo che Calvino porta alle estreme conseguenze quest'idea e, secondo lui, c'era un segnale per capire se uno era un predestinato oppure no, e cioè se aveva avuto successo nella vita terrena. Secondo lui, Dio premiava con il successo economico, principalmente, quindi sul lavoro, coloro che erano destinati poi alla salvezza eterna. Questo, ovviamente, portava a un grande stimolo nei confronti, appunto, del lavoro e dell'economia e riesce, nel 1541, nella cittadina di Ginevra, a creare una comunità ideale basata proprio su queste sue idee. Quali erano le regole che vigevano a Ginevra in questo periodo? Erano regole molto stringenti. Innanzitutto, erano proibiti gli svaghi. Qualsiasi tipo di divertimento era visto come qualcosa di negativo, perché distraeva dall'idea di Dio e della religione. Quindi non erano assolutamente possibili gli svaghi. Oltretutto, qui vi ho scritto modestia nei modi, cioè cercare di non mostrare la propria ricchezza e cercare sempre di essere modesti in tutto, senza mai vantarsi e così. E questa era una delle cose principali, appunto, legate al calvinismo. Poi, ovviamente, la centralità del lavoro. L'etica del lavoro diventa fondamentale nell'ideologia di Calvino e per controllare che tutto questo andasse bene, a capo di tutto c'era questo concistoro, che era una specie di concilio, una specie di riunione, di assemblea, ecco, di saggi, che dovevano, appunto, controllare e vigilare che tutti i vari divieti e tutti i vari obblighi venissero rispettati. E per circa vent'anni c'è da dire che Ginevra fu proprio una città dove il calvinismo si sviluppò. Calvino, tra l'altro, era francese ed era dovuto fuggire dalla Francia proprio a causa delle sue idee. Andiamo a vedere adesso l'ultimo caso di scissione, diciamo, dalla Chiesa Cattolica ed è quello di Enrico VIII, che, infatti, lui sarà il fondatore della Chiesa Anglicana. Che cosa succede? Enrico VIII voleva divorziare dalla moglie Caterina d'Aragona. Questo per un motivo in particolare, e cioè il fatto che Caterina non era riuscita a dare ad Enrico VIII un erede maschio. Infatti, i due avevano avuto diversi figli nati morti, però, purtroppo, e soltanto una figlia femmina, Mary, che però Enrico ovviamente non considerava per la successione al trono perché voleva l'erede maschio. Inoltre, Enrico si era innamorato di questa donna, di questa dama, Anna Bolena. Quindi, che cosa fece? Enrico chiese a Papa Clemente VII di poter divorziare da Caterina d'Aragona. Ora, ovviamente, a quel tempo il divorzio non esisteva. Ma, diciamo che, per le famiglie reali in particolare, i papi avevano fatto spesso delle eccezioni, quindi non era una richiesta così strana. Il problema qual era? Era che la famiglia di Caterina era una delle famiglie più potenti d'Europa. Infatti, lei era un'Aragona, un'Aragonese, quindi veniva dalla dinastia della Corona Spagnola, e i re spagnoli erano grandi amici del Papa Clemente VII. E quindi, Papa Clemente VII decise di rifiutarsi di concedere questo divorzio. Allora, Enrico VIII decise nel 1534 di approvare un atto chiamato Atto di Supremazia, cioè un atto con cui lui dichiarò di essere il capo di una nuova chiesa, una chiesa solamente inglese. Quindi, oltre a essere il re degli inglesi, lui sarebbe stato anche il capo della chiesa inglese, definita anche chiesa anglicana. Da un punto di vista dottrinale, quindi da un punto di vista religioso, non ci sono differenze importanti con il cattolicesimo. Infatti, Enrico VIII era anche molto contrario. alla riforma protestante, e non aveva nessuna simpatia per le idee di Martin Lutero. Semplicemente, la chiesa anglicana non riconosceva più l'autorità del Papa. Grazie a quest'atto di supremazia, Enrico VIII si autoconcesse, diciamo così, il divorzio da Caterina d'Aragona, e così poté sposare Anna Bolena, da cui però, anche in questo caso, ebbe soltanto una figlia femmina, Elisabetta. E ovviamente questo era un problema, perché non riusciva neanche Anna Bolena a dargli un figlio maschio. Allora Enrico VIII decise di divorziare di nuovo. Questa serie di divorzi portò in pratica ad avere in totale sei mogli, tre Caterine, due Anne e una Jane. Jane sarà la terza moglie, l'unica da cui in realtà poi non divorziò, perché Jane morì subito dopo aver dato alla luce l'unico figlio legittimo maschio di Enrico VIII. Infatti con la terza moglie, con Jane, ebbe un figlio che divenne poi appunto il re Edoardo VI, che succedette appunto a Enrico VIII dopo la sua morte. In realtà però c'era un problema anche per Edoardo VI. Questo Edoardo fin da piccolissimo aveva avuto dei grandi problemi di salute, ed infatti anche lui ebbe una vita molto breve, senza lasciare eredi, e poi al trono gli successe la sorella maggiore, Elisabetta prima, cioè la figlia di Anna Bolena. Bene, come sempre spero che questa video-lezione vi sia piaciuta, e ci vediamo in classe. Grazie.